torna alla vittoria l'aradeo e lo fa sul campo del futsal noci imponendosi 4 a 0 in occasione dell'ottava giornata del campionato di serie b girone g una iniezione di fiducia dopo 4 ko consecutivi da parte della compagine salentina con il noci però che parte subito a sprombattuto iniziativa da parte di l'apertosa respinta da parte dell'estremo difensore salentino e poi arriva dipinto che spreca mandando alto il pallone ancora un'iniziativa da parte del noci bloccata da carbone che poi impegna severamente casulli alla deviazione in calcio d'angolo ancora aradeo in avanti questa volta e macaolo a piegare le mani a casulli che riesce comunque sotto traversa a mettere il pallone in calcio d'angolo azione del noci che viene intercettata da tundo che si prodiga in un cost to cost da banda sinistra palla in mezzo e poi arriva l'autorete di pozzo vivo che sblocca il risultato per lo 0 a 1 per il quintetto ospite non si ferma la compagine dell'aradeo che prova poi la via del gol ma mitri viene fermato ancora una volta da un ottimo casulli poi la palla danza pericolosamente nell'area di rigore per poi essere allontanata lo 0 2 arriva invece con scarico di carbone per caselli che insacca sotto la traversa davvero una splendida rete quella messa a segno da caselli che poi ha anche una dedica personale si dedica poi tundo alla esultanza nei pressi della propria panchina una iniziativa da parte del noci tutt'altro che positiva nella gestione con il portiere lontano dalla porta e arriva lo 0 3 da parte della radeo a radeo che prova ancora ad andare in gol questa volta c'è il palo esterno colpito da carbone ed è questa l'azione che chiude il primo tempo nella ripresa si riparte subito con la catena che serve a caselli la rete dello 0 a 4 doppietta per caselli che indirizza in maniera piuttosto seria il risultato poi c'è la traversa colpita dalla catena sempre da banda sinistra con l'azione che poi si spegne in falo laterale noci che si rifà vivo con pozzo vivo che in profondità prova a servire gutierrez bella l'iniziativa ottima la chiusura di caputo subentrato a de simone nel corso del match tundo recupera un pallone serve caselli ma non c'è la deviazione il tap in per il possibile 0 5 ancora tundo scarico per mitri palla morbida un tocco morbido la palla però termina fuori a radeo che quindi può esultare salendo a in classifica quota 10 punti raggiungendo il bernalda a radeo che nel prossimo turno ospiterà in casa il casali del manco mentre per il noci settimo KO su sette gare disputate